Ci sono città che hanno sperimentato, ad esempio la città dei 15 minuti, è stato fatto a Parigi da Hidalgo una sindaca donna e la città dei 15 minuti ad esempio è una proposta interessante perché nell'ambito appunto di 15 minuti a piedi o in bicicletta si possono trovare in questa città ideale naturalmente i servizi essenziali. Quindi una donna può portare il bambino all'asilo, a scuola, può andare in farmacia, può accedere ai vari servizi senza dover spendere una parte così cospicua del suo tempo. E quindi da quello che è emerso è venuto fuori un manifesto e questa è la cosa importante adesso, divulgare questo manifesto. E io spero che qui, anche qui, a Telestense si possa divulgare quello che è emerso, i punti focali, che sono quattro in particolare, che sono emersi dal questionario che si è tradotto in un manifesto e si è tradotto anche in un accordo con l'Anci. Quindi Soroptimist e Anci, Comuni d'Italia, hanno sottoscritto un accordo per cui noi siamo riconosciute come protagoniste attive in questo processo. Ci puoi dire ci quattro punti? Sì, ecco, diciamo che i punti sono vari perché indubbiamente noi abbiamo focalizzato una città ad esempio inclusiva. Questo è uno dei punti che indubbiamente a noi donne interessa di più, una città inclusiva, una città sicura, una città in cui la donna si possa muovere liberamente, sicuramente, in cui anche le fasce meno, le fasce indubbiamente più deboli, anche i bambini stessi, possano muoversi in totale sicurezza e libertà. Ecco, questo è una città inclusiva, sicura, a misura di donna e bambino, ma a misura di tutti. Una città attrattiva, ecco, indubbiamente le nostre città, Ferrara, nella fattispecie, è una città attrattiva. Però ci sono, io immagino, anche a Ferrara, pur patrimonio UNESCO, diciamo degli aspetti che potrebbero essere migliorati per renderla appunto più attrattiva dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, perché, insomma, è chiaro la sostenibilità, non solo quella ambientale, ecco, un altro dei punti di forza, certo, del manifesto, è l'ambiente, è una città che sia pulita, indubbiamente, che sia una città in cui si possa respirare aria pulita, in cui la raccolta dei rifiuti indubbiamente possa essere, diciamo, anche giornaliera, o perlomeno, insomma, ci sia anche una educazione civica, perché a noi interessa anche questo, che il cittadino collabori, non possiamo pensare che l'amministrazione possa fare tutto, noi vogliamo un cittadino collaborativo, ecco, quindi puntiamo molto anche su questa interazione, e quindi è chiaro che il cittadino va anche educato.